Siamo combattendo il sindaco. Sindaco, dobbiamo combattere contro tutti. Sindaco, io sono convolto. Sindaco, il nome di Lino non deve essere dimenticato, è il nome di nessuno. Dobbiamo essere intanti. Noi siamo più forti. Dobbiamo distruggere noi loro. Perché quello che è successo a Lino deve colpire e dobbiamo sentirci toccati tutti. E soltanto se quei proiettili ce li sentiamo addosso e li sentiamo sparati, anche su di noi, perché li hanno sparati proprio adesso, dove siamo, qui, tutti, senza tregua. Soltanto se li sentiamo su di noi, allora veramente la memoria di Lino potrà far modo che non ci siano più altre vittime innocenti. Ci siamo abbracciate a Rosi, alla fidanzata. Lei è una combattente e Lino, che è la vittima di una guerra e di una bestia che si chiama Camorra, ha lasciato una combattente, come ha lasciato combattenti familiari delle vittime innocenti. Però noi chiediamo veramente di voltare la faccia alla Camorra, tutti, persone comuni, politica, istituzioni. Fa paura. Il rumore degli spari fa paura, soprattutto per chi li ha sentiti. Ma fa più paura il silenzio. Non c'è stato silenzio, c'è stato un abbraccio e un applauso molto forte per Lino. Ci siamo incontrati, cittadini, normali e comuni, per accendere una speranza. Noi adesso accendiamo questa candela. È un gesto molto piccolo, ma abbiamo il diritto ad un cambiamento e abbiamo il dovere di impegnarci per questo. La Camorra non vale niente! 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 La Camorra non vale niente!